E' proprio vero, questo mondo sta cambiando, non ci si può neanche più dare del tu. Bisogna stare almeno un metro di distanza, persino quando sei davanti alla tv. Anche se prendi l'autostrada per viaggiare, puoi fare a meno di installare il telepass. Ti fanno solo entrare e transitare, se hai con te a bordo il tuo Green Pass. Ce l'hai Green Pass, ce l'hai Green Pass, se non ce l'hai amico mio ti attacchi al tram. Bisognerebbe essere tutti vaccinati, o perlomeno da due giorni tamponati. Ce l'hai Green Pass, ce l'hai Green Pass, se non ce l'hai amico mio non puoi entrare. Se vuoi sederti al ristorante per mangiare, devi avere l'app su tuo cellulare. Se vuoi andare in chiesa per pregare, ti devi un mese prima prenotare. Eppure in paradiso per entrare, San Pietro che ti chiederà il Green Pass. E' proprio vero, il mondo ormai è cambiato, quello che è stato non tornerà più. Noi siamo finiti male, cari amici, se non ce l'hai non puoi ballare più. Ce l'hai Green Pass, ce l'hai Green Pass, se non ce l'hai amico mio ti attacchi al tram. Bisognerebbe essere tutti vaccinati, o perlomeno da due giorni tamponati. Ce l'hai Green Pass, ce l'hai Green Pass, se non ce l'hai amico mio non puoi entrare. Se vuoi sederti al ristorante per mangiare, devi avere l'app su tuo cellulare. Ce l'hai Green Pass, ce l'hai Green Pass, se non ce l'hai amico mio non puoi entrare. Mi sognerebbe essere tutti vaccinati, o perlomeno da due giorni tamponati. Mi sognerebbe essere tutti vaccinati, o perlomeno da due giorni tamponati. Il Green Pass!